Tutti i colori, di solito non lo usiamo per dire qualcosa di positivo, è molto antica perché l'esperienza dei colori fa parte di quelle esperienze anche linguistiche, poi ci sarebbe da sviluppare come un'occasione. Per esempio, i latini non avevano il termine bianco, allora non fosse un bianco, avevano due, Angus e Candidus, per distinguere tra il colore opaco, il bianco opaco e il bianco lucido, luceno, e che vi domande di solito. Amore mio, che è amore mio, che è. 10 power, 100% come la tua pelle, 100% come te. Nuovo da Svelto, castiglie per lavastoviglie, per un'efficacia eccezionale, con ingredienti di origine naturale. Svelto Powered by Nature, tutta la forza della natura. Tuk presenta le nuove Tuk sfoglie, pochi semplici ingredienti, 100% naturali e voilà, irresistibili triangoli di cotti al forno, così croccanti e così buoni. Esattamente buoni, Tuk sfoglie, provale subito. Naso chiuso, c'è un'acqua di sirmione, scioglie il muco, libera il naso, idrata la mucosa, elimina virus e batteri. Acqua di sirmione, una vera forza della natura. Lo sai che i gatti sterilizzati possono avere un tratto urinario sensibile? Sì, ma non il mio gatto. E che tendono a prendere peso? Forse, ma non il mio gatto. Con purina One Steric, è ricco in proteine e con minerali bilanci.